Siamo qui con Stefania Radroccia, direttrice per l'area mediterranea dei mercati per i Uai e il capo economista di Cassa Depositi e Prestiti Andrea Montanino. Ci raggiunge virtualmente Paolo Boccardelli, direttore della Lewis Business School, che non è qui con noi ma partecipa in modalità digitale, per parlare di uno dei settori più colpiti da questa crisi che è molto importante in Italia, la moda e il lusso, una tempesta perfetta per questo settore che è andato molto bene, ha avuto degli ottimi anni. Andrea Montanino, qual è il quadro? Come lo vedi? Molto complesso, perché qui siamo di fronte a un settore che somma shock di domanda e shock di offerta. Sul lato dell'offerta pesa un modello sostanzialmente dove c'è un forte sfasamento temporale, in genere tra la progettazione, la produzione e l'emissione sul mercato delle collezioni, con due conseguenze. Nei mesi di lockdown non si potevano vendere le collezioni prodotte e quindi si sono accumulati dei magazzini, merci che probabilmente non vedranno mai il mercato, perché a quel punto saranno vecchie. E poi dal lato della produzione non si è potuto produrre i beni che sarebbero andati sulle collezioni successive, dei mesi successivi. Quindi a meno che non si ha la capacità di recuperare rapidamente, il rischio vero è che poi questa crisi si protrae anche più avanti. Poi ci sono altri due elementi che vanno aggiunti. Il primo è che pesa la limitazione dei viaggi. C'è un pezzo di turismo di gente che viene in Italia per fare shopping. Si stima che più o meno il 14-15% degli stranieri che sono venuti nel 2019 sono venuti per fare esplicitamente shopping. Poi ovviamente tutti comprano qualcosa, quindi mancherà una fetta importante per il settore. E il secondo aspetto è il tema dei redditi. Ovviamente è una crisi che impatta fortemente sui redditi di tutte le classi. Si stima che addirittura il 60% di quelli che nel mondo compravano beni di lusso non faranno acquisti quest'anno. C'è una classe media che inevitabilmente si impoverirà un po' e questo quindi peserà evidentemente su questi acquisti. Insomma dare numeri è sempre impossibile, molto difficile in questa fase, ma se ne posso dare uno che a me ha veramente colpito, è il crollo delle vendite della produzione nel mese di aprile del settore. In Italia hanno fatto sia vendite che produzione numeri superiori almeno 80% rispetto all'anno precedente. Quindi questa è la situazione, la speranza è che non si prolunghi troppo. Stefania Radoccia, naturalmente l'impatto sull'occupazione è importante ed è anche un tipo di occupazione particolare, perché stiamo parlando di skill spesso unici, sempre molto avanzati. Come è il quadro? Anche qui rischiamo di dare numeri preoccupanti. In questa serie di digital talk obiettivamente abbiamo sempre dato dei numeri di impatto pesanti per tutti i settori. Intanto diamo un contesto nel settore, un'analisi di contesto. Questo settore è un settore importante per l'Italia perché ha un fatturato di circa 80 miliardi, che è l'8.5% del PIL, con un'occupazione di 500.000 addetti, che sono il 12.5% degli occupati in generale. Come diceva lei, sono occupati molto professionalizzati, sono artigiani per la gran parte, perché le aziende del settore sono aziende medio-piccole. Consideri che il 70% di queste aziende hanno un fatturato al di sotto i 10 milioni di euro, mentre quelle di grandi dimensioni, sopra i 500 milioni, sono meno dell'1%. Quindi sono aziende piccole che lavorano in distretti e per filiere, altamente professionalizzate. Il 7% della spesa in ricerca e sviluppo in Italia si spende nel settore della moda. Questo cosa significa? Significa che questi occupati devono essere conservati, ma l'impatto, come diceva il dottor Montanino, è molto alto, perché già solo nel mese di aprile c'è stato un 83% di vendite in meno e si stimano a decrescita del 30-35% nel settore. Sono peraltro occupati, concentrati su principalmente 5 regioni italiane, che sono Lombardia, Veneto, Emilia-Normagna, Marche e Toscana, sono occupati che hanno avuto un impatto pesante per questa decrescita delle vendite dell'83% e sono rimasti a casa, circa a casa non ancora licenziati, perché c'è il divieto di licenziamento, circa 300 mila persone, che rappresentano 300 mila famiglie, quindi un dato molto importante, di cui circa 130 mila nel settore retail, che è stato quello più impattato, perché le misure, innanzitutto l'incremento delle vendite online, che per ora rappresentano solo l'11% delle vendite attualmente, in più le misure di distanziamento, pre-crisi, certamente, un dato pre-crisi, ma comunque il dato è aumentato, ma non è ancora sufficiente per mantenere tutta l'occupazione, quindi i negozi sono rimasti chiusi. Le misure di distanziamento sociali non hanno accelerato la domanda, anzi hanno bloccato la domanda, perché sia i lavoratori che lavorano nei negozi hanno una prossimità al cliente molto elevata, quindi una possibilità di ammalarsi elevata. Se il virus non decrescerà, ma riaumenterà, come alcuni virologi prevedono a ottobre. In più, la domanda si è fermata, perché comunque c'è un sentimento di paura collettiva che non si può negare, in più le vendite online, è ovvio che si prevede un aumento della disoccupazione da un 30,4% fino addirittura a un 38%. Ci sono delle stime delle associazioni di categoria che dicono che un 10-15% dei negozi chiuderanno. Quindi questo ha un impatto nel retail, un impatto importante. È ovvio che poi per mantenere l'occupazione, che parte se ne andrà, è inutile dirlo, bisognerà lavorare sull'upskilling e reskilling delle competenze, soprattutto sulle competenze digitali che serviranno per aumentare le vendite online. Andrea Montanino è un'industria con alcune peculiarità, sicuramente è un'industria globale in tutta la filiera, per esempio. Anche i piccoli laboratori della Toscana, per esempio, che lavorano per i grandi brand, alla fine hanno come mercato finale di sbocco, per esempio, i mercati asiatici. Tu quali strategie vedi per andare avanti in questa industria, per rimettersi in piedi, per ritornare competitivi? Ma guardi, è sicuramente un'industria molto particolare, nel senso che noi cosa diciamo spesso? Che le aziende troppo piccole non sono quelle che riescono ad avere mercati di sbocco esteri. In realtà in questo caso è esattamente il contrario. Siamo in un settore dove le aziende sono piccole o piccolissime, la dimensione media dell'azienda e del settore è minore della media della manifattura italiana, che comunque è già piccola, eppure abbiamo un saldo commerciale, c'è una differenza tra quello che esportiamo e quello che importiamo, positivo per 33 miliardi, che sono due punti di PIL, quindi è una dimensione importante. 2019. Ovviamente parliamo di dati a consuntivo, il 2020 vedremo, ma essendoci il crollo della domanda ovviamente avremo dati molto più piccoli, però era ed è un settore ben inserito nelle filiere internazionali. Considerate che questi 33 miliardi di saldo commerciale positivo sono il più grande dal punto di vista settoriale dopo la meccanica, la meccanica italiana è in termini di volumi ovviamente molto più rilevante. Questo perché avviene? Perché questa piccola dimensione permette di mettere insieme flessibilità, innovazione e artigianalità che in qualche modo si trova solo in Italia. A me ha stupito scoprire, non lo sapevo, che il 60% delle sub forniture nel settore del lusso sono prodotti italiani, che un terzo del valore prodotto dalla moda in Europa è italiano, che è un valore 5 volte più alto di quello dei francesi. Quindi magari non vediamo il brand, il marchio, ma il prodotto è tutto italiano. Quindi qui qual è il rischio? Il rischio è di uscire da queste filiere, perché si bloccano gli scambi, perché diventa più complicato, etc. Insomma dobbiamo mantenere questi punti di forza, artigianalità, tradizione, innovazione, flessibilità e quindi continuare a essere indispensabili. Un ultimo elemento e chiudo, importante da dire, è che è un settore che si sta anche molto evolvendo in positivo, la produttività del settore negli ultimi 10 anni è cresciuta a tassi doppi rispetto alla produttiva del resto della manifattura, quindi ci sono speranze positive, direi. Stefania Cadoccio, una battuta per chiudere. La Fashion Week milanese ultima è avvenuta in maniera inevitabile in canali digitali. Che bilancio ne trae? Io personalmente me ne sono accorta, perché vivendo a Milano non ho visto quel bellissimo tra virgolette circo della moda che c'è a Milano un paio di volte l'anno e questo è stato un grande dispiacere perché alimenta anche tutto l'indotto. Ovviamente si sta accelerando il processo di digitalizzazione nel settore della moda, B2B e B2C, l'approccio di vendita non può essere solo monocanale ma deve essere omnicanale, questo le aziende e i brand della moda l'hanno capito, quindi i negozi fisici saranno più importanti per far vivere la customer experience al cliente, soprattutto i clienti dei brand di lusso, ma poi la vendita dovrà andare sicuramente, chi compra è già influenzato dall'omnicanalità e il 70% delle domande di acquisto è già sull'omnicanale, quindi evidentemente il Covid ha accelerato questo processo nel settore. Bene, vi ringrazio, bilancio duro ma finisce con un'interessante osservazione, questo episodio segna un'accelerazione non uno stop. Grazie.